Salve a tutti! Il gioco che vi presenterò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Coded Arms. Questo è un titolo che volevo trattare da molto tempo in questa rubrica per la sua, a mio parere, notevole importanza sia storica sia di attualità nel campo degli FPS Rogue Lake. Coded Arms è un titolo del 2005, che è stato sviluppato per la console PlayStation Portable. Solo da questa prima definizione possiamo dedurre un certo numero di importanti considerazioni. In primo luogo, questo titolo ha tutte le caratteristiche dei moderni FPS Rogue Lake che oggi troviamo su Steam, ma, come detto, è stato sviluppato nel 2005. Anche qui infatti avremo la generazione procedurale dei livelli, la morte permanente ed una trama appena abbozzata che serve solo a giustificare la progressione del protagonista. Anche il gameplay, seppur portato su console, è di fatto quello degli FPS Arena Rogue Lake moderni. Anche qui infatti ci ritroveremo a proseguire nelle nostre avventure, schivando proiettili e raccogliendo potenziamenti. In modo non molto diverso, da come si gioca un più recente Zinorath o Paranautical Activity. Coded Arms ha quindi anticipato di più di un decennio un genere che ai giorni nostri è esploso. Fra le altre cose, anche qui per passare ai livelli successivi, bisognerà uccidere dei guardiani ed inoltre molte stanze trappola dovranno essere ripulite da tutti i nemici che contengono prima di poterli abbandonare. La trama del gioco è molto semplice. Voi siete un hacker che ha come obiettivo il violare un sistema di simulazione militare chiamato AIDA, andato fuori controllo da parte di chi lo aveva sviluppato. Questo sistema funziona creando una realtà virtuale e connettendola direttamente con il cervello umano, in modo simile al più famoso Matrix. Ovviamente cercherete di fare questo con la promessa di ricevere una lauta ricompensa, ed a rischio della vostra vita nel caso, veniate uccisi dalla simulazione. Fine. Non così diversa dalla Zinorap da sconfiggere per entrare in un famoso ordine di maghi. L'altra particolarità di questo gioco, che lo rende unico nel suo genere, è la piattaforma console su cui è stato sviluppato. Al momento attuale questo è l'unico FPS RoboX sviluppato esclusivamente per questo tipo di piattaforma. Di tutte le cose però da dire di questo gioco, quella forse più importante è la sua attualità. Voi mi direte, perché un vecchio titolo del 2005, sviluppato per una console morta, è ancora attuale? Beh, semplice. Perché esistono gli emulatori? E, come immagino sappiate, gli emulatori possono girare non solo su PC, ma anche su telefono. Al giorno d'oggi è proprio questa, a mio parere, la caratteristica più importante di questo titolo. Code d'Arvas è l'unico FPS RoboX per cellulari attualmente esistente. E questo, in un mondo dove i titoli Payton Win la fanno da padrone, non è cosa da poco. Code d'Arvas è l'FPS RoboX in grado di portarvi con la sua adrenalina ovunque portiate il vostro telefono. Che sia in autobus o al cesso. Un emulatore di PSP per cellulari gratuito ed open source lo trovate in descrizione. Le pecche del titolo? In alcuni casi sui cellulari, specie quelli vecchi, laga un po'. Inoltre a chi come me è abituato a sparare con tastiera e mouse, i comandi da console in un FPS arena, sono qualcosa di difficile da gestire. Cosa che potete ben vedere in questo video. Ah! Vi state chiedendo perché non avete mai sentito parlare di questo gioco? Perché nessuno se lo ricorda più? Guardatevi la recensione di Hellgate London e datevi da soli la risposta. Come al solito le cose fighe, e soprattutto difficili, non piacciono alla massa che continua da sempre a criticare i roguelike per la loro ripetitività visiva. Ripetitività che però di certo non hanno nel gameplay. Ma a chi interessa più giocare davvero? Forse solo ai nostalgici. Concludo questo video con un'ultima considerazione. Vi invito a cercare su YouTube altri video riguardanti questo gioco oppure altri retro game poco conosciuti. Vedrete che, soprattutto in Italia, i miei colleghi, salvo rare eccezioni, non trattano questi giochi. Anche se magari sono figli. Volete la risposta? Molto semplice. Ormai gli YouTuber sono diventati dei mercanti squattrinati che pubblicizzano solo quello che gli conviene. In pratica il percorso è questo. La software house chiama lo YouTuber e gli chiede di recensire un gioco o fare un gameplay, lo YouTuber esegue ed in cambio riceve di solito solo una key per il titolo gratuitamente. Fate caso a quanti recensori su Steam dicono di aver ricevuto il gioco gratuitamente. Praticamente tutti. Questo però, almeno a mio parere, non è fare marketing. Questo è svendersi per delle briciole. Se la community pensa davvero di diventare famosa o guadagnare in futuro così si sbaglia. L'unica cosa che otterrà sarà drogare il mercato videoludico e, molto spesso, finire per pubblicizzare i giochi di merda a scapito di quelli d'uomi. Io stesso, che non faccio video per lucro, sono stato contattato in passato da alcuni sviluppatori indi che volevano che pubblicizzassi il loro gioco, e ovviamente mi sono rifiutato. Preferisco rimanere uno YouTuber piccolo, ma indipendente. Inoltre io prendo a mie spese tutti i giochi che decido di recensire. E faccio questo non per recensirli, ma per giocarli. La prova di ciò la potete vedere andando nel mio profilo Steam. Ad esempio No Man's Sky, io l'ho giocato per più di 300 ore. Preferisco guadagnare lavorando e comprare col mio sudore i titoli piuttosto che leccare i piedi a chi vuole che spenda il mio tempo libero e la mia libertà. Se volete dire la vostra a riguardo potete usare i commenti. Detto questo, vi do il solito arrivederci alla prossima.